Non gliela scondo che ancora adesso per noi è stato un dispiacere perché è una famiglia, diciamo, in un certo modo. Noi non so se potevamo fare qualcosa per aiutarli, però mi commuovo perché è una tragedia. Ci ha toccato da vicino. Qualche volta passando vedevamo tutto chiuso, le finestre, tutto sempre chiuso e le luci esterne che la notte si accendevano. Quindi per noi mai ci siamo chiesti posti l'interrogativo perché non li vedevamo, perché tutti gli anni era così, non li avevamo visti mai durante il periodo estivo. Quando era il primo giugno, la metà di giugno, a seconda dell'andamento stagionale, andavano al mare, a Porto Reganati. Poi avevano una villetta uscita in montagna e finito il mare andavano in montagna e tornavano il 31 agosto. Allora, la nostra Maria Grazia San Rocco, Maria Grazia a te, non può essere vero quello che stiamo raccontando, non può essere vero. Io non posso credere che sia successo un fatto così grave, così... Morire di sete. Di sete, di sete. Prego, a te. Un fatto doloroso, Eleonora, davvero doloroso, triste. Raccontare questo fatto ci fa anche rabbrividire. Come si può morire nel 2021? Perché ricordiamo che queste tre persone sono morte nel 2021. Morire di fame e di sete. Ecco, la storia inizia a settembre, il 6 settembre. La sorella di questa donna, di Angela Maria, che viveva all'interno di questa bellissima villa, avvolta, insomma, circondata da alberi secolari, non risponde al telefono, non hanno più notizie, per cui si preoccupa e dà l'allarme. All'interno di questa villetta vengono ritrovati tre corpi privi di vita. Il marito, la moglie ed il figlio. Soltanto due giorni fa i risultati dell'autopsia. E qui, insomma, rimaniamo tutti esterefatti. Che cosa è accaduto? Beneros, l'uomo ottantenne che si occupava della sua famiglia, è morto a seguito di un ictus. Sua moglie e suo figlio, invalidi, invalidi ormai da molti anni, non hanno potuto muoversi, non hanno potuto far niente. Loro sono morti di sete e di fame. Nessuno ha potuto far niente per questa famiglia. O nessuno ha saputo aiutare questa famiglia. Perché, naturalmente, noi ci domandiamo anche questo. Com'è possibile che, quando non si hanno notizie di un'intera famiglia per mesi, non si fa nulla? Certo è che questa famiglia non voleva essere aiutata. Ha rifiutato l'aiuto di molte persone. Ha rifiutato la collaborazione di una domestica. Ha rifiutato persino un cellulare, perché era stato regalato alla signora Angela Maria un cellulare, ma lei non lo usava e non ha potuto chiedere aiuto. Questa donna è stata ritrovata distesa sul letto. Suo figlio, invece, che aveva avuto un gravissimo incidente stradale, a seguito del quale era rimasto invalido, ed era accaduto circa 20 anni fa, oggi aveva 54 anni, è stato trovato disteso a terra. Probabilmente quest'uomo ha cercato di alzarsi dal letto da solo, non lo poteva fare, perché appunto non aveva la mobilità, non poteva muoversi, ma non è riuscita a chiedere aiuto. I vicini che sono qui, come abbiamo sentito anche il signor Daniele, non si sono preoccupati, perché loro solitamente, durante il periodo estivo, andavano via, lasciavano questa abitazione e si trasferivano altrove. Continuavano a vedere le luci dell'abitazione aperta, accese, perché comunque si accendono di notte, per cui non si sono preoccupati. Certo è che quando hanno appreso questa dolorosa notizia si sono chiesti tutti, potevamo fare qualcosa? Forse non è stato fatto abbastanza, forse non è stato fatto abbastanza per queste persone che vivevano da sole, che sono state, in qualche modo, probabilmente anche abbandonate. Abbandonate, ricordiamo che la procura di Macerata ha aperto un fascicolo, proprio per accertare eventuali responsabilità. Qualcuno poteva intervenire, ha anche i servizi sociali? Tutto ciò non è avvenuto. Allora, tre filetti, qualcuno poteva intervenire, siamo sempre alla stessa domanda. Qualcuno poteva intervenire? Brava, sì, brava, proprio così. Allora, quando succedono questi fatti perdiamo tutti e abbiamo tutti responsabilità, certo. Con gradienti completamente diversi. È chiaro che nel caso della famiglia dell'orco e dell'orca è chiaro che le responsabilità massime arrivano da lì. Poi si devono andare a fare le analisi di carattere psicologico, culturale, eccetera, eccetera. Però tutti abbiamo una responsabilità. E allora io vorrei mettere in fila queste responsabilità. Prima, ovviamente, quello che determina questi fatti, clamorosi, incredibili, che fanno male all'intero paese. La seconda questione è la superficialità, diciamo così, il fatto che la convivenza sociale ci porta anche a questioni di responsabilità maggiore di quello che mettiamo in campo. Tant'è vero che il nostro paese è un paese solidale, è un paese che ha fatto cose meravigliose durante il Covid. Se voi sapeste quante famiglie aiutavano tante altre famiglie nel fare la spesa e tante altre cose. E allora anche qui c'è una responsabilità. Parenti, amici, la cittadinanza, ma di fronte a fatti come questi, ha anche questa una responsabilità. Infine, chiudo, scusa, fammi fare solo una battuta, Eleonora. E poi le istituzioni. Ma santa pazienza. Ma come si fa? Le istituzioni non intervengano su casi che, per esempio, sono all'opinione di tutti, perché nel caso precedente tutti sapevano, tutti dicevano che succedeva qualcosa. Lì le istituzioni non devono solamente mettere l'orecchio, devono intervenire e sciogliere questi nodi. Ma come si può mettere in prigione una figlia o non farla studiare un padre così malevico? Per me è ancora più colpa il padre della madre. Ecco, e le istituzioni quindi sono il terzo elemento di grande responsabilità. Vediamo, perché ad un certo punto questa famiglia, state vedendo, ecco qua, dal sito di Rai News, macerata, lui morì per malore, la moglie e il figlio invalidi per fame e sete. Una famiglia molto riservata, faceva tutto lui, non voleva aiuti in casa. Questo raccontano i vicini. Bisogna vedere se fosse vero o meno. Intanto questa descrizione continua tra rammarico e dispiacere, perché questo vicino dice, mi dispiace che io non me ne sono accorto, ma non me ne sono accorto perché pensavo fossero da un'altra parte. Quando vedevo la tapparella abbassata, perché credevo che fossero andati al mare. Sentite. Devo dire una cosa. Faceva spesa, portava il figlio, faceva qualche riabilitazione, cucinava, puliva, facendo, cioè l'uomo di casa, tutto lui. Era una brava persona. Si lamentava Eros della situazione? Mai. Mai. Lui mai, ma era coraggioso. Lui mai si è lamentando della situazione familiare. Erano molto riservati loro come persone, come famiglia. A febbraio mi telefonò Eros, era caduto il figlio, l'abbiamo tirato su e poi lo ha messo a letto. Ho visto un po' di abbandono, diciamo, all'interno della casa. A Eros ho detto, Eros, mi ha fatto aiutare una donna, anche tre o quattro ore a settimana, no? No, no, non ho bisogno di niente, ce la faccio bene da solo. Non voleva l'aiuto di nessuno. Io ho l'aiuto di nessuno. Siamo i vicini più prossimi e quindi una certa, non responsabilità, però ci domandiamo, avremmo potuto fare qualcosa?